Novena all'Immacolata Concezione di Maria, sesto giorno 4 dicembre, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, più santa dei santi, più gloriosa degli angeli, più venerabile di ogni creatura, ave celeste e paradiso, tutta fragranza, giglio, cheolezza soave, rosa profumata che si schiude a salute dei mortali. Ave, Tempio Immacolato di Dio costruito santamente, adorno di divina magnificenza, aperto a tutti, oasi di mistiche delizie. Ave Purissima Vergine Madre, degna di lode e di venerazione, fonte di acque zampillanti, tesoro di innocenza, splendore di santità. Tu, o Maria, guidaci al porto della pace e della salvezza, gloria di Cristo, che vive in eterno con il Padre e lo Spirito Santo. Amen. Sostiamo, dopo aver pregato queste parole, per chiedere a Gesù la grazia per l'intercessione della Vergine Immacolata, quella grazia per cui stiamo pregando questa novena, per noi, per una persona a noi cara, per una situazione che ci sta a cuore. Pregate in silenzio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Vergine Immacolata, prega per noi.